Musica Eccoci qua nuovamente insieme, siamo in compagnia di Gianmaria De Paulis, il nostro esperto informatico. Buongiorno Gianmaria e bentornato. Bentornato. Ho fatto come si dice a Teramo, cupo. Hai fatto cupo, sì è vero, sei stato assente per una puntata, ma ti abbiamo recuperato. Ah, sei venuto portando la neve. Infatti, infatti. Nevica, nevica, nevica. Vengo da Costa di Sant'Agostino, c'era quello stratino piccolino, bianco sulle macchine a Teramo, però penso che nelle colline intorno ci sia proprio lo stratino bianco, che quando ero piccolo significava non andare a scuola. Eh beh, la scusa chiaramente partiva al volo. Esattamente, anche se, anche se, io vorrei un pochino di caldo, che dici Serena? Beh, sarebbe quasi ora, sarebbe quasi ora, insomma il freddo ci ha stancati. Sì, poi non è stato quel bel freddo della neve pesante, quei due o tre giorni a casa non ci si potevano, è stato solo freddo, quindi non abbiamo neanche sentito i vantaggi della neve, ma ormai la neve è fuori moda, ora ci vuole il sole. Eh già, adesso abbiamo tutti bisogno di sole, di caldo, di primavera quantomeno. Soprattutto di cellulari, perché io vedo tanti amici che fanno ogni due secondi domani nevica, dopo piove, con tutte le nuove app, gli smartphone, i sui computer, l'assalto ai siti di meteo, perché sembra che da oggi a domani il meteo possa cambiare, tendenzialmente rimane sempre quello, avevamo detto già da una settimana che nevicava, quindi non fate ogni 30 secondi a vederlo che non cambia il meteo. Ormai è diventato quasi un ticco nervoso. Esatto, eppure 6-7 anni fa, 8 anni fa un amico mi diceva, guarda che il nuovo business del web sarà il meteo, mi disse, penso di sì, non lo so, non è una passione, quindi non ti so dire, però c'era la ragione, speriamo che ci ha fatto tanti soldi. Beh, contenti loro, vabbè. Allora, una cosa importante, vengo con due notizie dal mio punto di vista trionfali, perché una riguarda il Nobel dell'informatica, anche noto come premio Turing, la notizia è veramente di qualche ora fa, ed è importante perché questo premio che esiste da tantissimi anni è stato per la prima volta, eccolo qui, per la prima volta è una storia, assegnato a un italiano che è Silvio Michali, e questo è importante perché, e poi vediamo pure la seconda notizia, è un personaggio italiano che riceve un Oscar, chiamiamolo, dell'informatica, ma soprattutto è un riconoscimento anche a quello che è l'apporto degli informatici è il degli italiani all'informatica, perché ricordate che gli italiani hanno dato tanto al mondo dell'informatica, e questo Michali ha ricevuto questo Oscar appunto, questo premio Turing, per una cosa che noi in realtà utilizziamo ogni giorno, ma non lo sappiamo, perché lui insieme alla sua collaboratrice, alla sua collega, hanno inventato e hanno implementato i principali algoritmi di criptografia, con cui noi ogni giorno effettuiamo lo shopping online, quindi quando andiamo a comprare qualcosa su internet, stiamo utilizzando le teorie che il nostro... Qui però non lo facciamo tutti, e noi lo facciamo ogni giorno, eccolo là, subito bacchettato, cioè chi lo fa, perché tu hai spiegato che è un qualcosa che facciamo tutti i giorni senza saperlo, chi lo fa tutti i giorni? Qualcuno? Io? No, e lo sai, va bene, era solo una precisazione. Per Serena l'Oscar non doveva essere assegnato. No, 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 ben venga. Però è una cosa molto importante, perché nell'ambito dell'informatica significa che l'Italia ha un gran riconoscimento, e poi soprattutto sapere che stiamo parlando di algoritmi e quindi di tecnologie che utilizziamo ogni giorno, quindi non è chissà quale tecnologie dispersa, ogni volta andate con un browser e andate, eccetto Serena e alcuni altri, vanno a effettuare un pagamento e state utilizzando le tecnologie pensate da Michali, e quindi questa è una cosa molto molto importante. E' importante anche perché quest'anno negli Stati Uniti si festeggia l'anno dell'Italia, degli italiani, quindi degli italiani che si trovano presso gli Stati Uniti. Nel particolar caso a San Francisco, ma toccando un po' poi tutte le tappe degli Stati Uniti, quindi tutte le principali città degli Stati Uniti, ci sarà l'Italia Innovation Day, e questo Italia Innovation Day è stato fatto a Silicon Valley. Silicon Valley sappiamo la valle dove ci sono le più grandi e importanti aziende di tutto il mondo di informatica, dall'HP a Google a Facebook, chi più ne ha più ne mette. E perché è una cosa interessante? Benissimo perché viene riconosciuta anche qui un approccio che l'Italia ha dato all'informatica. C'è un'app che è possibile scaricare sia per iPhone che per Android, in cui viene data tutta la storia di quella che è l'innovazione italiana nell'informatica e negli Stati Uniti, e ad esempio si parte con Olivetti, che adesso viene un attimo rispolverato questo mito importantissimo di una delle prime società. Io ricordo sempre che Olivetti, anche se oggi non esiste più, faceva paura IBM, alla neonata IBM negli Stati Uniti, tant'è che in un consiglio di amministrazione dell'IBM storico, intorno a metà degli anni 50, l'IBM si preoccupava il suo presidente dicendo attenzione c'è un'azienda italiana che potrebbe toglierci la leadership. Quest'azienda era appunto l'Olivetti. In quest'anno della celebrazione dell'italianismo negli Stati Uniti è stato organizzato un convegno molto importante, il 13 marzo. Questo convegno sull'innovazione aveva i principali personaggi scienziati che hanno influito nella tecnologia e nell'informatica, tra cui Faggin, perché voi sapete, è vero Serena, sappiamo che il microprocessore è stato inventato da un italiano. Certo, chi non lo sa. L'Intel 4004, che è uno dei primissimi processori al mondo, se non il primo, perché in realtà il primo processore, secondo queste nuove architetture, fu inventato da Faggin, che è un italiano che vive negli Stati Uniti e così come tanti e tanti altri importantissimi, come i ragazzi di Mashap. Ma tra questi relatori pochi sanno che in realtà c'è anche un nostro compaesano, che è un amico, posso dire, un amico, diciamo, se ci sentiamo spesso su Facebook, è Vincenzo Di Nicola, che è di Teramo, è stato selezionato tra i referenti per quello che vogliamo essere più importanti dell'innovazione tecnologica italiana negli Stati Uniti e nel mondo. E lui tra l'altro con la sua società, che è una società, una start-up, una start-up importante, perché è una start-up che ha avuto importanti riconoscimenti e finanziamenti, viene identificato come veramente una delle principali, eccolo qui, qua vediamo il sito dell'Italian Innovation Day, dedicato all'evento e quindi questi che vedete sono tutti italiani che hanno presentato, che vivono negli Stati Uniti e che hanno presentato all'interno dell'evento quelle che sono, come dire, l'italianità, il made in Italy per le tecnologie. E Vincenzo, eccola qui la società, che è la GoPago, che permette di effettuare pagamenti tramite i cellulari e sta in realtà veramente avendo un grande successo negli Stati Uniti, speriamo che più presto possa sbarcare qui da noi. E se la regia riesce nella schermata precedente, scendendo in basso, vi voglio fare anche vedere chi è Vincenzo, perché è Vincenzo di Nicola, i genitori sono a San Nicolò, eccolo là, piano piano, piano piano, eccolo lì, in basso a sinistra, eccolo lì, lo vedete? Non si riesce a... eccolo lì, perfetto, si può cliccare ma tanto la foto rimane quella, leggiamo solo un breve curriculum. Comunque veramente complimenti a Vincenzo perché in qualche maniera rappresenta gli italiani importanti che fanno grandi progetti negli Stati Uniti, rappresenta soprattutto il nostro campesano perché è di Teramo e torna una volta l'anno qui da noi, anche perché mantiene un importante evento presso il liceo scientifico, che è una gara di cervelli, che è una cosa bellissima, un dispiacere perché è un altro grande italiano e soprattutto un giovane ragazzo che purtroppo scappa all'estero. Ce lo ricordiamo pure, abbiamo parlato qualche tempo fa di Emanuel quando a dicembre è venuto che è anche lui all'estero, insomma, questi ragazzi che purtroppo vanno via. Però comunque la cosa importante è che almeno le radici sono molto nostre territoriali e quindi un plauso e un complimento fortissimo a Vincenzo che ricordate se leggete lì chi ha voglia se lo va a vedere, qui sono tutti i personaggi che hanno negli ultimi 30 anni influenzato le tecnologie di tutto il mondo e quindi stiamo a parlare veramente di persone e persone veramente importanti. Un giorno vedrete anche la foto di Gianmaria De Paulis, sicuramente, che in qualche modo ha influenzato i cittadini a comprare online dopo 455 puntate su Prima di Tutto, ormai da decenni, continua a influenzare l'informatica del Stelamano. La cosa si influenza, diventa un opinion leader per comprare online. E Paulis, perché no? Comunque, ripeto, ultima cosa, è importante che i nostri giovani escano fuori e si sappiano in qualche maniera distingue. Queste sono cose veramente di grande rilievo. Buongiorno, ingegnere. Come vede il futuro delle tecnologie Medin Teramo? Medin Teramo, bellissimo. Le tecnologie Medin Teramo, bellissimo. Come le vedo? Le vedo bene. Allora, io vi dico, secondo me la provincia di Teramo, ovviamente ci allarghiamo al territorio della provincia, ha quelle 3-4 persone che nell'ambito dell'informatica, forse anche di più, ma nell'ambito dell'informatica stanno riscuotendo successo a livello nazionale, a livello internazionale. L'abbiamo visto con Mazzilli, l'abbiamo visto con Di Nicola, l'abbiamo visto con quell'altro ingegnere che, se vi ricordate, sviluppò un'app circa un anno fa, non più forse, un'app per quanto riguarda le persone diversamente abili che non possono vedere, quindi l'app gli aiuta a camminare. E quindi, come vedete, la vedo bene. Poi noi abbiamo una particolarità nel nostro territorio, cara Serena, che è l'Abruzzo, secondo me, a tutti quegli elementi per far sbocciare delle idee, per far sbocciare nuove idee. La settimana scorsa, con Confindustria Teramo, il gruppo Giovani Imprenditori, abbiamo fatto un meeting delle idee a Roccaraso, sotto l'egida di White Information, che è questo evento che stiamo portando avanti da diversi anni, e vi dico che sono arrivate tante idee tecnologiche di innovazione. E la cosa bella, ovviamente, la maggior parte erano per quanto riguarda il web, le app, quindi sono state davvero interessanti. Molte sono riuscite a superare la fase di selezione e quindi ad essere presentate all'interno del convegno. Ma è importante perché significa che il nostro territorio ha tutti quegli elementi per farsi che le testoline nostre, le nostre testoline, abbiano un pochino più di attenzione, come dire, meno distrazioni. Se ci fate caso, tutte le grandi società sono sempre immerse nel verde, hanno un contatto molto diretto con la natura, non sono mai nelle grandi città, se non gli uffici prettamente commerciali. Quindi l'Abruzzo di per sé ci permette di essere, la Brunciteramo nel verde, non siamo una grande città, potremmo essere distratti meno e pensare di più a quelle che sono le soluzioni tecnologiche. E quindi ci farebbe molto molto piacere. Ecco, questo era il video che avevamo fatto appunto per l'evento. Quindi le vedo bene, soprattutto io dico ai ragazzi giovani, lo dico perché ormai io non mi sento più tanto un ragazzetto giovane. Beh, ormai sei andato. Eccolo là, sono andato. Scherzo, ovviamente. Però ecco, quello che vi dico è provate, tentate, provateci sempre un'app, io parlo ovviamente di tecnologie ma potrebbe essere in qualsiasi settore. Provateci, tentate, sperimentate, cercate finanziatori. In Italia ci sono siti che permettono di trovare finanziatori anche all'estero, imparate l'inglese, l'inglese deve essere come la Via Maria, cioè dobbiamo conoscere l'inglese perché qualche volta noto che spesso poi abbiamo difficoltà a interfacciarci quando andiamo oltre i nostri confini. Quindi la risposta, concludo, bene, la vedo bene, andiamo avanti, testa bassa, non ci fermiamo. Anche perché ce ne abbiamo gli esempi, Mazzilli di Nicola e tanti altri, poi quando escono fuori si fanno distinguere, quindi che siamo a fase, no? Ci fermiamo, ecco la fabbrica dell'idea, l'elemento essenziale dell'elemento. Bene, bene. Un'altra cosa invece che può tornarvi molto utile, l'ho sperimentato su me stesso e dico la verità, non la conoscevo, ci sono capitato per caso, quindi purtroppo non me ne dovrei neanche vantare. E che sarà mai? Una cosa che Serena potrebbe servire, visto come guida Serena. Perché come guida? Il portale, allora si chiama www.ilportaledellautomobilista.it Questo portale, eccolo qui, ripeto, non lo conoscevo, ne avevo sentito parlare ma mi ci sono incontrato, ci sono inciampato, se vogliamo dire, alla terramana. Mi sono imbattuto. Questo portale in cui mi sono registrato perché volevo testare e verificare i servizi, beh questo portale permette di avere davvero tutte le informazioni per quanto concerne la nostra patente, tutte le pratiche che possiamo fare, i nostri veicoli, informazioni per quanto concerne anche la revisione. C'è un servizio bellissimo che ti permette di ricordarti quando deve fare la tua auto, la revisione. Quindi voi una volta che vi siete registrati... Questo è importante, perché a distanza di due anni se non ci se ne dimentica spesso. Ad esempio, se riusciamo ad andare all'altra pagina, tornando indietro, eccolo qua, qui ci stanno il tariffare di tutte le pratiche che è possibile fare presso la motorizzazione, ma la cosa bella è che registrandosi è possibile avviare buona parte delle pratiche online, effettuando i pagamenti online, quindi senza più necessità di andare a prendere la motoristica alla motorizzazione, casomai puoi andare a pagare i bollettini presso una banca o le poste, ma veramente sono tanti servizi che si possono fare in là. È un vero servizio di e-government, ma di quelli proprio veri, veri, fatti bene. E lo consiglio a tutti di registrarsi. Attenzione, quando vi registrate i patenti alla mano, perché giustamente vi chiederanno una serie di dati, tra cui la vostra patente, ma vedrete che vi tornerà sicuramente utile. Ripeto, il servizio, prima che stavo dicendo, per remember, come una sorta di promemoria per quanto riguarda la revisione, lì si può decidere via sms, via mail, dire un mese, 20 giorni, qualche settimana prima, ricordami che devo fare la revisione. Il sistema in automatico vi invierà, non mi è ancora arrivato, perché ancora la devo fare, però vi invierà in automatico il sistema una nottina dove dice guardate, portate la macchina a fare revisione. Ricordate che se non fate la revisione, lo dico per esperienza personale, la macchina ve la fermano. Non entro nel merito di quale codice, articolo o quant'altro, però vi fermano un po' di giorni la macchina e quindi diventa un problema. Per poi fare che cosa? Una revisione che alla fine quanto costa? Una settantina di euro. Ovviamente sui 65, 70, a seconda anche di ciò di cui è bisogno l'auto. E quindi lo consiglio veramente a tutti, vi ripeto l'indirizzo www.ilportaledellautomobilista.it Andate a registrare, tanto è gratuito la registrazione, non è che ci sono costi o quant'altro, ma vi permette di ottimizzare tante cose. Orbene, vogliamo andare in pubblicità? Va bene, dico. No, un attimo. No, no, un attimo. No, un attimo. Dalla regia, no, un attimo. E noi non andiamo, aspettiamo un po'. Ci vorrebbe come quando siamo sui computer, quella cosina che gira. No, un attimo, please wait. Serena mi guarda e dice, stai a dire, c'è che stai dicendo? Ma mi dice cose... Allora, quali studi di ingegneria consiglia per lavorare a Teramo? Allora, mi permetterei di modificare la domanda. Quali studi di ingegneria consiglia per lavorare? Ecco. No, a Teramo, va bene. Però giustamente il signore dice a Teramo. A Teramo. Perché un conto è magari lavorare in una grande città dove ci sono più opportunità di lavoro, piuttosto che a Teramo, dove probabilmente, cerco di interpretare il pensiero del telespettatore, non ci sono tantissime aziende capaci di inglobare un ingegnere con un margine di certezza. Ma guarda, guarda. Forse nelle altre realtà c'è più possibilità di lavoro. Ecco, per questo chiede, ingegnere sì, ma in quale ramo, in quale campo per poter lavorare? Allora, tendenzialmente, tendenzialmente gli ingegneri in ambiti tecnologici, scientifici, quindi più tecnici, a Teramo tendono a trovare lavoro, le aziende li cercano. Ingegneri in informatica, bene o male il lavoro lo trovano, quindi il ramo dell'informatica, dico veramente, conosco amici che sono stati fermi 20 giorni, un mese. Il tempo di finire la laurea, presentare un paio di curriculum, di curriculum ad entrare. Quindi, sinceramente, quelli che spingere più sono l'ingegneria in informatica, sicuramente. Anche in momento di crisi l'ingegneria edile potrebbe dare qualche problemino. L'ingegneria gestionale va bene pure, perché comunque è un'ingegneria che in qualche maniera è un supporto sempre al controllo e al management di un'azienda. Per esempio, ingegneria meccanica, che secondo me è una bellissima specializzazione, però mettere un punto interrogativo, perché poi aziende che qui utilizzano veramente gli ingegneri meccanici ce ne sono pochi. Là si tende, per esempio, ad andare a lavorare molto fuori. Quindi, l'ingegneria informatica forse è quella che permette oggi di trovare il maggior mercato ed essere quindi facilmente assunti da piccoli o grandi aziende nell'ambito dell'informatica. Ovviamente l'informatica sta crescendo, quindi servono risorse. In realtà le risorse oggi presenti nel mondo, e così come in Italia, sono ancora sottodimensionate rispetto alla richiesta di servizi che gli utenti hanno. Quindi è difficile trovare un informatico che si ferma. Una cosa importante, lo dico perché l'altra volta, parlando con degli amici, proprio sul figlio che aveva finito le superiori e non sapeva cosa voler fare, cosa non voler fare, io vi permetto di dare un consiglio. Chi vuole lavorare nel mondo dell'informatica e di queste tecnologie, di non fermarsi solo alla scuola superiore, che dà sicuramente degli ottimi elementi, ma consiglio fortemente di almeno effettuare la triennale in informatica o in ingegneria informatica. Per chi vuole lavorare nel mondo dell'informatica? Perché sicuramente il diploma vi dà una base, ma una base molto semplice, quindi nel momento in cui si entra nelle aziende si ha poi difficoltà ad utilizzare queste conoscenze. La laurea invece triennale vi permette di salire, quindi il ragazzo può diventare una professionalità più alta. Se riuscite la quinquennale c'è una grande differenza, quindi la vecchia laurea magistrale, perché ricordate che non siete più proprio degli sviluppatori, ma con le lauree quinquennali diventate degli architetti del software e quindi passate anche a livelli, come dire, quando venite assunti a livelli di organizzazione più alta. Questo è l'unico consiglio, mi permetto, perché tante volte uno pensa che l'informatica sono smanettate col computer, quindi trovo lavoro. No, oggi i profili stanno diventando sempre più specializzati, ambienti, settori, conoscenze all'interno di un ambiente anche quale livello, senior, junior, advanced e così via. Quindi questo è il consiglio che mi permetto di dare all'amico. Chiacchieri parecchio comunque, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitata. La nera quant'è brutta. No, tra un po', oggi le scuole sono aperte, a Teramo sicuramente, perché purtroppo piove, nevicchia, piovigile, insomma non è ancora delineato. Che ci dici dalla regia? Non attacca ancora, queste sono le notizie. Buongiorno. Coda. Cosa consiglia a chi vuole acquistare un cellulare super innovativo, grazie. Dopo la pubblicità? Dopo la pubblicità. Così ci pensa e ci riflette. Tanto sono... Eccoci, allora, rispondiamo subito all'SMS che è arrivato in studio poco fa. Quale altamente tecnologico cellulare lei consiglierebbe a un nuovo acquirente? Mi inquadrate un attimo, Serena. Con quale spavalderia? E da quale, non lo so, trono supremo, si è seduto guardandomi dall'alto verso il basso e mi dica. Serena, ma se io lo chiedo a te? Ah, io ho subito la risposta. E quale sarebbe? L'iPhone. L'iPhone. Ma avete detto come dice iPhone? Perché? Io la Apple, io la inviterei, la Apple, a farle a lei, non lo so, che si fa in questi casi, non lo so, un curriculum, ma non va bene un curriculum. Insomma, fatevi una... Un test, fate iPhone e brevettate, come lei dice, riprendi, Serena. Dai, no, perché adesso mi sento osservata. iPhone. Osservata? Scusate, in televisione Serena si sente osservata, scusatemi. Vabbè, mi stai dolcendo dell'attenzione. Porca paletta, come dovrebbe dire qualche comico. Smette di prendermi in giro. Vabbè, comunque... Allora, l'iPhone, l'iPhone. Ma perché io come l'ho detto? Cioè, mettete mi piace sul video all'interno del sito di Teleponte, su questo video, dicendo mi piace, Serena, come dice iPhone. Hai detto iPhone, cioè tutta una cosa... Vabbè, che c'entra? Perché io... Guarda, io ho visto tante pubbliciare l'iPhone, ma non ho mai sentito così elegante come hai detto tu. Beh, potresti che l'Apple mi chiamerà per, appunto, dire iPhone in uno spot pubblicitario. Avete visto, abbiamo parlato un attimo di alcuni amici che sono all'estero e già Serena parla in inglese. Non oso immaginare che cosa potrebbe accadere nelle prossime ore. Mi basterebbe appena una settimana all'estero e tornerei qui che l'italiano sarebbe già una lingua dimenticata. E' l'ultimo franghese. Non ho capito nulla. La regina fa delle battute che non ripetiamo, scusatemi. Allora, quale cellulare? Vabbè, i due grandi filoni sono l'iPhone. iPhone è a ragione Serena. Qualche amico diceva, ma mi compro l'iPhone, ma esce un nuovo modello, già si vocifera. Dovrebbe uscire il nuovo modello iPhone 6 o 5S, il nome ancora non si sa, ma tendenzialmente dovrebbe uscire, chi dice, verso settembre-ottobre, chi dice i primissimi del 2014. Mi raccomando, tienici informati perché guai, dovessi uscire e non ne siamo al corrente. E' grave la cosa, mi raccomando. Faremo un'edizione speciale, se la notizia dovesse uscire in agosto, prima di tutto è ferma come programmazione. Scusi, regia mi dà la camera, questo è un appello di aiuto di un povero ospite, della Federospiti Nazionali. Bella la Federospiti. La Federospiti, quando il nostro giornalista ci malmena, fate qualcosa per voi. Ma no, dai, su. Comunque, iPhone, ripeto, ovviamente uno dei smartphone tra l'altro più costosi. Vabbè, ma si breve, sta finendo la puntata e non ancora arriviamo. E la neve, la neve mi rilassa. E la neve ti rilassa. Samsung S3 al momento sul commercio, ma penso che prima dell'estate possa uscire anche il Samsung S4, che è il nuovo modello, oggi ci sono le prime anteprime e le prime foto. Quindi ovviamente questi due, Samsung S3-S4, iPhone 5, sono gli smartphone al momento più potenti sul mercato e anche purtroppo più costosi. Quindi se uno ha soldi da spendere, quelli. Altrimenti, non so se lo trovate ancora, ma c'era un'ottima offerta del Samsung Nexus, anche noto come Google Phone, perché era proprio il cellulare di Google, che se lo riuscite a trovare su 250-260 euro un'offerta in qualche centro commerciale, quella è veramente un'ottima macchina a rapporto prezzo-qualità. E posso apprezzare anche in maniera eccezionale, con budget sempre intorno ai 250 euro, 300 euro, l'LG Optimus L9, che è veramente, ha uno schermo molto grande ed è una macchina veramente bella, bella. Quindi fascia alta, e mi guarda, mi guarda al suo piedistallo, fascia alta iPhone 5, Android S3 o S4, fascia media se trovate Samsung Nexus oppure LG Optimus L9. Sono veramente, costano meno della metà, ma sono macchine molto molto belle. Va bene? Perfetto. Sono stato nei tempi. Assolutamente sì. Dai, qualche altro argomento e poi ti lascio. È importante, fatemi riprendere, è importante perché? Perché se ne parla tante volte mi chiedono pure a me, ma ripeto, secondo me non è chiarissimo. Allora, c'è una domanda che tutti si pongono, soprattutto i gestori dei locali. Io posso avere il Wi-Fi presso il mio locale e quindi dare connettività ai miei clienti? Se questa connettività posso darla? Devo anche controllare chi si connette? Perché, vi ricordate, il decreto Pisanu diceva che bisognava raccogliere una fotocopia del documento di chi si connetteva, i dati anagrafici, in maniera da, come dire, classificarlo e indicare da che ora si era connesso a che ora si era connesso. Perché in futuro, se si verificavano problemi, il responsabile non era il titolare del locale, ma era chi aveva effettuato questa connessione. Beh, la ConfCommercio, e quindi la FIPE, che è una federazione italiana pubblici esercizi, ha fatto una domanda espressa qualche settimana fa al garante, dicendo, insomma, chi ha un locale pubblico può mettere questo Wi-Fi aperto, deve ancora essere in base al decreto Pisanu classificare questi utenti? Beh, il garante della pravisi sembra che abbia risposto che in realtà con il decreto 1000 proroghe del 2010, che non è chiarissimo, però ha dato questo chiarimento appunto, che chiunque ha un locale può tenere il Wi-Fi, potrebbe tenere, metto sempre il condizionale, il Wi-Fi aperto ai propri clienti e quindi darne utilizzo. Quindi non c'è più l'obbligo di classificare, fotocopiare quelli che sono gli utenti che si connettono. Beh, anche perché immagina, non so, entriamo in un pub, documento, fotocopia, perché cosa per connettermi poi col telefonino probabilmente, perché insomma... Ed è una cosa molto importante, perché ricordate che tutta Europa, già lo fa, mancava solo l'Italia. E guarda caso. Quindi sembrerebbe che... guarda caso, giustamente. Quindi dovrebbe essere possibile. Ovviamente vi consiglio sempre un approfondimento in merito, l'informazione diamo è sempre indicativa, però qualche di uno si domandava, benissimo, se succede un illecito, chi risponde? Questa domanda non si è avuta ancora una chiara risposta. Però indicativamente, e casomai vedete, lo ripeto, tramite vostra associazione di categoria, il Wi-Fi nei locali pubblici può essere aperto e quindi chiunque viene, casomai, quando soprattutto immagino in un bar, qua a Teramo, no, ma non l'ho visto ancora, qualche di uno sulla costa già lo fa, si può scaricare, leggere il giornale e bersi il proprio caffè. Altrimenti col proprio telefonino si connette a pagamento, come fa sempre. E se no si connette a pagamento, certo, pure sta cosa a pagamento. C'è un progetto di fare Wi-Fi tutta l'Italia. Beh, sarebbe positivo. Ma non ci credo per niente, tutte andennine. Poi rischiaviamo che il WWF ci blocca. Eh sì. Allora, invece l'ultima, posso? L'ultima. L'ultima. Tecnicamente si chiamano Alveari Type Squat, che il nome poco ci interessa, più che la parola Alveari può essere simpatica. Che cosa sono? Allora, vi dico la problematica. C'era una slide. C'era, non c'è più. C'era una slide che PowerPoint questa mattina ha detto, scusami. E volata via come le api, Alveare. Vabbè. Feder Ospiti. Feder Ospiti Italia. La FOI. Tu l'humor. La Feder Ospiti italiana farà un esposto nei confronti della dottoressa Surriani. Ritornando a noi, quando voi digitate l'indirizzo di un sito di internet, fate molta attenzione. Veramente, fate molta attenzione. Perché? Perché ci è capitato anche io, per fortuna, mi sono accorta. Fate molta, cioè la gente è così. Attenzione quando digiti un sito internet. Sì, va bene. Perché? Che può succedere? Scopo il computer. Serena, poi, il suo ditino. In realtà, fate attenzione in questo senso qui. Tante volte, invece di scrivere Google, scriviamo Google con una O sola. E ci connettiamo in un sito che non è in realtà. Che non è Google. Ma fino a quando è questo il problema non sussiste. Il problema è se, ad esempio, invece di scrivere YouTube, scriviamo YouTube. YouTube, Utype. E che succede? E succede, vi connettete. Un sito che è principalmente identico a YouTube. Ah. Identico. L'unica cosa, logo di YouTube, a un certo punto dice, avete, potete, siete stati selezionati, avete vinto un premio. Se fate questo questionario, ovviamente voi YouTube, quindi accreditate il marchio, fate il questionario, alla fine vi chiedono alcune informazioni e per verificare, caso mai, la vostra, che siete veramente delle persone fisiche, reali, il numero di carta di credito, perché ci sono dei servizi che non utilizzano. Questa storia del numero delle carte di credito. Aspetta, ci sono dei servizi che a volte, quando vi registrate, non utilizzano la carta di credito per pagare, ma utilizzano la carta di credito per verificare che siete voi, perché succede. Quindi, lo stesso concetto, vi fanno inserire il numero di carte di credito perché credete che, casomai, voglia verificare la vostra identità per poi inviarvi il regalo, e poi vi ritrovate addebitati 45-50 euro al mese degli abbonamenti, non si sa dove. Questi siti vengono chiamati proprio alveari type squat, perché si trova all'interno di un gigantesco server, ma il discorso è, quando digitate, controllate bene, perché altrimenti uno che vede Google, YouTube, pensa che siano cose, vabbè, ma sono su YouTube, e invece, casomai, sbagliare una lettera vi trasforma e vi porta in tutt'altro mondo. Ecco, io da donna saggia dico che al mondo non vi regala niente nessuno, quindi quando compare avete vinto un premio, siete il centesimo. No, non ci credete mai, per l'amore di Dio. Sono proprio delle sciocchezze pazzesche, a mio parere o le scrive YouTube, o le scrive Google, o le scrive qualunque sito serio, eccetera, c'è sempre dietro qualcosa. Diciamo che è gratis, appunto, qui dò ragione, invagliando nessuno. Ancora c'è gente che crede, non so, dammi 100 mila euro, io lo investo, di su, di giù, ti riporto, cioè, ma dove sta, cioè, ma non lo so. Guardate che, da quant'è che lo diciamo? L'ultimo caso che mi è capitato tre mesi fa, qualche d'uno ha scritto tramite internet di un testamento, beh, questo stava... Ancora cadono sul discorso del testamento. Stava partendo perché dice, ma forse, ovviamente, parliamo di persone che non hanno, casomai, le 30 anni, hanno 50, quasi 60 anni, però giustamente loro, casomai, che meno seguono internet, lo utilizzano per il minimo dispensato. Chiedete, chiedete, insomma, a un figlio, a un parente, a un conoscente. Chiedete, chiedete, poi, guardate, c'è una tecnica molto semplice, andate su internet, mettete il nome di chi vi ha contattato, mettete il nome dell'evento o del premio, alla fine vedete che vi tornano tramite Google tutta una serie di risposte che dicono fake, fake, quindi falso, oppure direttamente in italiano persone che dicono, guardate che non significa niente, guardate che è una bufala, lasciatela per, come le bufale che girano su Facebook. Altra cosa importante, su Facebook, non cliccare, quando vedete un video strano, sì, che sembra chissà che cosa, un video strano e soprattutto di persone anche che non conoscete, non lo cliccate perché il più delle volte sono virus che si installano sui vostri profili e incominciano a mettere post in automatico e diventa spam e poi vi bloccano il profilo e poi bisogna ripulirlo. Quindi, attenzione, insomma, il discorso è, quando andiamo in giro, dobbiamo stare attenti, dobbiamo sempre guardare dove camminare, no? Così ci insegno. Bene, su internet è la stessa cosa, attenzione, guardate sempre bene dove camminate. Perché se camminiamo per strada e calpestiamo qualcosa che non va, tutto sommato porta fortuna. Se succede su internet... Complimenti. Quando è sollecitato, alla POI ritiro la mia denuncia, Federazione Ospiti Italia. Ecco, per fortuna, dai, mi sono salvata dalla denuncia della POI. La POI. Speriamo che non ci siano marchi, noi non vogliamo assolutamente... Soprattutto penso che non ci sia una federazione di ospiti. Sarebbe bello, a tutti gli ospiti d'Italia, uniamoci e facciamo la nostra federazione. Eh, si può fare, perché no? Tu fai il presidente. No, non lascerei. Vabbè, tu l'hai lanciato l'idea, per forza. Ho lanciata l'idea. Comunque, veramente, attenzione. Giammaria, ti devo salutare. Grazie Serena, un saluto a tutti. Ci vediamo prossimamente tra due settimane. Ciao, ciao, ciao Serena. Grazie, grazie per essere stato con noi, per tutte le informazioni che ci hai dato. Ci ritroveremo presto con nuove iniziative. Buon fine settimana. Ciao, anche a te. Speriamo non ne vedi troppo. Noi ci vediamo tra pochissimo. Sole. Speriamo non ne vedi troppo.